Oggi è una giornata straordinaria perché nel contesto del Parco Extreme del Tevere, che è una scuola di scinautico, a Fiano Romano, ci troviamo con tanti bambini non vedenti. Io sono cieco dalla nascita e ho fatto dello scinautico un po' la mia passione, ma anche se volete la mia salvezza. Secondo me portare bambini che non vedono a sciare vuol dire proprio fargli vedere, fargli toccare con mano quello che si può fare. È vero, manca la vista, è un casino, ma è anche vero che se non si esce di casa, se non si prova un'esperienza come questa la vita diventa molto dura. Allora lo sport può essere quel pezzo di strada che c'è tra noi e la felicità e tramite giornate come queste sicuramente sarà più facile sorridere e conoscersi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!